Ben ritrovati al TG7 Basilicata parte da febbraio il progetto Bonus Acqua che prevede la realizzazione da parte di Enie Shell di tre impianti fotovoltaici in Basilicata a servizio degli impianti di acquedotto lucano, il cui risparmio si tradurrà nell'abbattimento della bolletta idrica per 70.000 famiglie lucane con i 6 pari o inferiori a 30.000 euro annui. Vediamo l'intervento del Presidente della Regione, Vito Bardi. Cari lucani, sono felice di comunicarvi che il Bonus Acqua è realtà. Dopo l'annuncio come nostra consuetudine siamo passati i fatti. Da febbraio 70.000 famiglie lucane non dovranno pagare la bolletta per la fornitura d'acqua grazie ad un accordo che abbiamo stipulato con le compagnie petrolifere e che a breve vi enuncerò. Già dal mese prossimo dunque saremo nelle condizioni di abbattere radicalmente la tariffa del servizio idrico integrato a favore dei cittadini lucani residenti con reddito ISEE pari o inferiore a 30.000 euro anni. Stiamo mettendo in atto un investimento strutturale che nel corso di un paio di anni consentirà di allargare la platea dei beneficiari e di prolungare nel lungo periodo l'abbattimento dei costi associati alla gestione della risorsa acqua. In pratica, nell'ambito degli accordi con le compagnie petrolifere per le compensazioni ambientali, abbiamo definito la realizzazione di tre impianti di produzione elettrica da fondi rinnovabili fotovoltaici che saranno a servizio degli impianti di acquedotto Lucano. Parliamo di un investimento di 55 milioni di euro a carico delle compagnie petrolifere per una potenza installata complessiva massima di 49 megawatt di picco. Questo aumento di energia elettrica pulita perché derivante da fondi rinnovabili consentirà ad acquedotto Lucano un risparmio sui costi di approvvigionamento che per i cittadini locali si trasformerà in un risparmio sulla bolletta dell'acqua. Con questa operazione abbiamo voluto aggiungere un tassello significativo per il contenimento delle spese delle famiglie lucane, ma al contempo abbiamo compiuto un importante passo in avanti verso la transizione ecologica, un percorso necessario e doveroso per garantire un ambiente sostenibile ai lucani di domani. Questa edizione termina qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.